Oggi Camera di Commercio di Salerno in compagnia del Rettore Tommasetti in occasione del convegno giovani e mercato del lavoro. In che modo l'Università Rettore riesce a preparare gli studenti al mondo del lavoro? Innanzitutto voglio dire che queste occasioni sono utili, il confronto con le organizzazioni sindacali, con l'organizzazione delle imprese, sono decisivo anche per dire le cose che facciamo, per testarle e possibilmente anche per avere utili spunti per migliorarle. Noi dobbiamo innanzitutto eliminare alcuni falsi miti che esistono, quello che laurearsi non serve, non è così. Lo dico io, lo dicono le statistiche, dicono che i laureati guadagnano di più rispetto a un diplomato e a parità di età e dicono anche che il vantaggio accumulato sull'intensiva della carriera è decisamente superiore. Dicono soprattutto che trovano più facilmente lavoro a un anno di distanza, a tre anni di distanza e diversi monitoraggi. Ed è anche, hanno resistito meglio rispetto alla crisi che ha investito il nostro Paese tra il 2007 e il 2014, dove il tasso di aumenti di soccupazione è stato decisamente inferiore. E credo anche che occasioni come queste servano per far capire le azioni che noi stiamo mettendo in campo. Perché è vero che l'università deve occuparsi innanzitutto di una ricerca di qualità e di una didattica al passo con i tempi. In questo senso anche il confronto con i sindacati, con le imprese è decisamente utile per migliorare la qualità dell'offerta formativa e renderla anche in linea con quelle che sono attese nel mercato del lavoro. Però dall'altro l'università si occupa a tempo pieno dell'orientamento e del placement dei nostri giovani. Lo fa dalla base, nel momento in cui devono entrare, con attività di orientamento, con un'isorienta, con il rapporto con le scuole per orientare i giovani in base alla loro passione, in maniera consapevole rispetto alle prospettive. E lo fa con il placement, perché ovviamente noi abbiamo una manifestazione di punta come Job in Campus, un contatto continuo con le imprese attraverso il nostro ufficio placement, la borsa della ricerca, insomma tante iniziative che vogliono dire che il nostro Ateneo vuole mettere in campo ogni iniziativa e sa bene peraltro che il tempo è un fattore decisivo per i nostri giovani. E quella politica straordinaria di Unisa premia il merito, che vuol dire rimborso integrale delle tasse e chi è in regola con gli esami. Ha significato più studenti regolari, ha significato più laureati regolari, ha significato aumento dei contributi per l'università, sostegno alle famiglie e ha significato immettere anche i giovani sul mercato del lavoro a un'età inferiore e quindi ai tempi europei e quindi darò più chance di una migliore occupazione. Con il segretario Ceres oggi alla Camera di Commercio per discutere.